Siamo riuniti come rappresentanti delle associazioni culturali che operano nel territorio del Lago Tresimeno nel tentativo di condividere alcune iniziative che possono essere un filo conduttore dell'attività di tutte le associazioni, questo senza nulla togliere all'autonomia di ciascuna associazione. Quello che bolle in pentola in questo momento è il tentativo di organizzare un insieme di eventi, insieme con Slow Food, eventi che dovrebbero essere inseriti nella cornice di qualità Tresimeno e il filo conduttore di queste iniziative sono tre prodotti tipici del nostro territorio, del territorio la quale, che sono il pesce, l'olio, la fagiolina.